Io credo che non ci si possa permettere di fermarsi e quindi la risposta è quella di adeguare il servizio a un momento di emergenza sanitaria nazionale che ancora fino al 15 ottobre sarà in corso, ciò che è certo è che questa città le scuole le apre, le apre nel massimo della sicurezza e le apre attraverso una forte alleanza con i dirigenti per quanto riguarda lo Stato e con un forte investimento, più di un milione e mezzo di euro complessivamente per quanto riguarda le scuole municipali e le scuole statali insieme. Inizio dell'anno scolastico in sicurezza per gli asili nido e le scuole dell'infanzia, così il Comune di Arezzo ha pubblicato le principali indicazioni per l'imminente riapertura. I nidi ripartono l'8 di settembre mentre tutte le altre statali comunali ripartono il 14, quindi sono due date differenti. Da domani però il personale educativo e scolastico è in servizio e quindi tornerà a scuola per tutte quelle che sono le preparazioni a questo punto molto più complicate rispetto agli anni precedenti. Dall'ambientamento dei bimbi in piccoli gruppi agli ingressi scaglionati per evitare assembramenti, passando per la sanificazione delle mani e la misurazione della temperatura da parte dei genitori prima dell'ingresso, queste alcune delle norme anti-Covid. Si dovrà stare in sicurezza e si dovrà stare separati rispetto alle sezioni, quindi la vita sarà organizzata attraverso dei percorsi educativi che permetterà loro di stare insieme meno promiscui possibile alla stessa sezione, ma assolutamente separati rispetto alle altre sezioni. Noi ci siamo molto concentrati su misurare gli spazi, ma in realtà dentro questi spazi ci sono dei percorsi educativi che non sono estranei ai luoghi in cui vengono ad essere svolti. Abbiamo anche focalizzato nella estate appena scorsa dei percorsi formativi dedicati ai nostri educatori che potessero avere gli strumenti pedagogici a questo punto aggiornati rispetto a un fatto che è straordinario e che non si era mai verificato nella storia precedentemente. Faccio un esempio. I giochi una volta si scambiavano perché è un principio quello dello scambio, oggi non lo si può più fare. Quindi non si può dire non lo fai più. Va capito, va fatto, va trovato un modo per cui il non farlo non costituisce un elemento pedagogico in qualche modo difficile da gestire poi.